Film gialli. Ho rivisto per l'ennesima volta Abandon, misteriosi omicidi, un film americano di molti anni fa. Perché sono attratto solo dai film gialli? Commento. Perché la tua coscienza prima e la tua mente poi tendono ancora all'oscurità più che alla luce. Il desiderio di emozioni violente è ancora un compagno fedele della tua esistenza. Che cosa dovrei fare per vivere meglio? Devi continuare a vedere solo film gialli, senza cercare di liberarti di questa tua limitazione. Devi convivere con questa limitazione, devi assaporarla, devi guardarla ogni volta che nasce dentro di te e ti porta a vedere solo quei film. Ma questo desiderio di oscurità lo devi usare per saturarti di oscurità e superare questa limitazione. Ma perché limitazione? Perché ti limita nella ricerca di una maggiore luce dentro di te. Che sessa? Chereon History. Che sessa? Che sessa?